Ciao a tutti e benvenuti a quest'altro nuovo video Dove aprirò, dove scarterò in diretta le bustine di una vecchia collezione chiamata Insect and Co-Fly Edition Dunque, bene, 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 da un bel po' che non la vedevo ma adesso sono pronto ad aprire le bustine Questa sarà la prima bustina Vediamo No, che figo Questa cosa sarà? Questa sarà la mosca parassita, dunque, la mosca parassita Takina ferra Molto carina Prossima bustina Quella qua Solo un secondo Devo fare con cavo altrimenti il mini poster che c'è dentro mi si rompe Eccola qua, dunque Guarda che carino Dunque, cosa sarà mai questa? Questa è la Vespa Vasaio La Vespa Vasaio Celipron Spire 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 La cosa La l'inserto più bello che abbia mai conosciuto Bene, concludo qua Anche questa volta Bene, ci vediamo al prossimo Al prossimo video